Volti le spalle Alberto Non è niente quello Leo Abbassi il braccio e volti le spalle Comparabola Tanzani Non devi saltare in esitazione Devi saltare in alto e girare il polso Mamma mia Fesia Porco Dinci Se vuoi tornare in Liguria guarda baci che sono felice Mi sangrino di meno gli occhi Ci siamo quasi Leo così Porco Dinci Ma tu guarda una persona come diventa Saltando un mese di allenamento La prendi in basso mentre stai scendendo Ah no non sei Foroni scusa Non fai neanche l'intra Le spalle Leo non ti entra la palla Ma tu guarda una persona VOL Le spalle Come in Mi Pati Quigiano Con Vuos Le spalle All Monster La fine Chgedezzi Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E' saltato in l'uno. No, presa, non fai intra, né gesto né rincorso. Leo, non hai staccato i piedi a terra. Non fai intra Alberto, ci dai il colpo col gomito e la spalla. Si aprissi la mano Gianluca potrebbe quasi andare bene, sarebbe un buon principio. Ma tanto volte le spalle non fai il gesto. Fai il gesto Gianluca! Leo, non salti, prendi la panna di lato, non c'è il gesto. Buono. Aspetta Gianluca. Puoi aspettare che Foroni alzi. Soprattutto che Foroni non sa alzare. Ma siccome tu puoi coraggiare l'incontro e fuori non può coraggiare l'alzata, mi sbaglio, l'attacco la vuol dire. E' molto semplice. Mentre l'attacco fa veramente schifo. Non so, devi portare braccia dietro, se no continui ad attaccare così. Vicino. E' eccola lì, guardalo. E' eccola lì, guardalo. E' eccola lì. E' eccola lì. E' eccola lì. Hai coltato le spalle Pierretti, in volo. La panna le prendo troppo lontana dall'attesa lui. Non c'è neanche il gesto. Mi stai voltando in volo Fredro, non è uno shot, è una palla attesa. Quindi facilmente difendibile perché va o contro il muro o su difensore facile. Per quanto riguarda le spalle, non c'è il gesto attacco Gianluca. Per quanto riguarda le spalle? devi portarlo il pallone non colpire lo basso le spalle continuano ad essere malissime le spalle le spalle aspetta a partire non c'è gesto d'attacco la mano è chiusa le spalle sono giuste però anche la rincorsa ma devi fare questo però veloce tu invece lo fai molto lento molti le spalle le spalle stai in anticipo del corso è meglio ma vieni murato la palla non ha parabola è una palla facile è una palla che è battesa lungo lì è una palla facile cambio alzatori sono nevole tutte le spalle non con la spalla alberto col bra col polso un qua è una palla è una palla non c'è non c'è ma è un bel gesto d'attacco La rincorsa, la rincorsa è terribile, ma il gesto è bello. Foroni invece è retrocella. Foroni più si allena, più diventa stazio invece. C'è un motivo se battono su di lui quando c'è quanto bagazzi tratti, no? Foroni più si allena, più diventa stazio invece. Foroni più si allena, più diventa stazio invece. Forse è stato il bonus. non chiudere il vomito non chiudere il vomito l'ho mettendo su quel braccio però le palle da Gazzuana per prendere il campo stanno un po' sputtando è la palla se tutto storno ti metti non fai neanche il gesto a Stato campionatore campionato solo palle forose salta e attacca non usare il salto per dividere il pallone toccare la letta di tuo sostenere ben male non so se è benissimo 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 ben tiro a canestro pensare ma che è sta merda? hai attaccato forte Alberto? l'ho servito la palla era invisibile quando era attaccata manca un passo di ricorso manca un passo di ricorso può avere più parabola torniamo ormai manca poco dopo due ore devi fare il gesto colpisci la palla da qua ti staccherò sempre già fai una ricorso orribile perché ti stacca a frescine poi fai anche questo shot sei in anticipo Alberto sei in anticipo Alberto non hai fatto il giusto al tacco è solo pizzicato si si la gestisci le spalle verso il zona 5 e zona 6 da qui le spalle verso il zona 5 e 6 da qui si può mettere 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 ottimo ottimo vado a fare la legge vado a fare la legge ma l'ho vado a fare la legge vado ci scelta vado 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 3 e 2 vieni sta palla non è facile che vuoi no, prendi il braccio Foroni prendi il braccio eh lo so no Freda, così è è solo te tu conta che con la tua rincorsa nessuno ti rimarrà mai a reddito se non lo scavai neanche veloce facendo lo shot non farei mai punto la sbucci Leo c'è la mano chiusa no cambia alciatori è una pietà è una pietà vai da io e comunque la parte dell'elettrista è usato solo e prettamente quella palla lì e cosa è usato? è un'altra pietà è una pietà è un'altra pietà non solo allenamenti ne abbiamo già non è un'altra pietà non è un'altra pietà non è un'altra pietà non è un'altra pietà Grazie. 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 Però bello, 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 così. Lavora così. Porta le braccia dietro. Bello, è teso ed è lento. È teso ed è lento, non fai nincorso né salti. Manca il gesto qui, bello. Aspetta, Alberto. Ti storgi con la schiena, non c'è il gesto. Vai, vicino. Vai, ecco l'altra qua. Vieni, vicino. È basto il braccio per prenderlo con le tue solide quattro dita a un metro dal corpo. No, un quattro dita è buono. Quattro dita in mezzo. Perché l'extra d'azione quando sei già dritto da zona due? Vicino. Cambia giatori. Questo è giusto almeno, l'idea è giusta. Non c'è l'altra qua. Non c'è l'altra qua. Non c'è l'altra qua. Non c'è l'altra qua. Apri il braccio, non fai il gesto. Apre il braccio Apre il braccio quando non vuoi girare la spalla Tanto casca comunque Ora dovremo saltare C'è tutto storto Le spalle verso la zona 6 devono andare Tanzani non con la spalla Il pareggio è trattato E' comunque più giusto Non mi è buttito per le azioni di legge La madonna Non la prendi col centro della mano Buono Fred, questo va bene Piano piano si torna Leo, tu devi alzare con la tecnica da alzare Tu stai alzando per risparmiare l'energia Non serve un cazzo Il braccio si abbassa La palla va lenta Niente extra Mentre attacchi da destra La rincorsa Forori Vorrà dire che non faremo il gioco finale Allora sono d'accordo Siete cotti? Mi faccio riposare Basta E' dentro Ma non è normale La rincorsa Forori Ora vedi il tempo di fare tutto Per cazzo della perfetta Guarda qua Che prezzo deve stare qui Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Cambio alzatori No, manca un turno Poi siccome Mario e Gianluca sono stanchi Non faremo il gioco finale Ma ci riposeremo L'hanno detto loro L'hanno detto Siamo stanchi Mi faccio riposare Ma non hanno gli arche Meglio, meglio Apri bene questa mano qua Di barica la finita E' sempre chiusa Stai indietro di schiena Leo Meglio questo shot Con il gesto attacco fatto bene No, no, no Non è bene Vincito 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 Guardate di completare l'incontro Non salutare che la palla va all'allentatore Usa il polso Devi stenderlo prima a quel braccio Per tirare col polso Se non è inutile quello che stai facendo Dai San Luca Mi ritrovo il modo per colpirla bene La palla Era così bello Insegna anche a Pieretti se ce la fai La rincorsa è il contrario Gianluca Ma stai verso il centro in campo No, è più una legge davvero No, è più una legge davvero Dai 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 Non gli dai le colpi da palla a volo La prendi bene La giri correttante Senta gli punti Ora si sa Tutti insieme Lei Perché continua a fare l'ex Stop